... Proseguono a tappeto le ricerche dei due ex fidanzati di Vigo Novo e Torreglia scomparsi. Sabato sera ha setacciato il Brenta controlli anche tra il Cansiglio e Dobbiaco, l'auto di Filippo rilevata sull'Alemagna. Vi prego, tornate. È l'appello congiunto da parte dei genitori di Giulia e Filippo e poi ancora chiunque li vedesse o vedesse l'auto chiama il 112 o i numeri che sono stati diramati. Da Vigo Novo a Torreglia sono giorni complicati per varie comunità ma siamo fiduciosi che tornino presto, parla il sindaco del comune veneziano Luca Martello. Stati generali del moto ondoso Venezia con decine di interventi dal mondo politico, imprenditoriale e delle forze dell'ordine all'orizzonte misure su traffico e velocità. Gli interventi dell'ultimo secolo hanno trasformato la laguna in un braccio di mare, a rischio la città e il suo ecosistema, l'allarme dei verti. Dura presa di posizione dell'Associazione dei Costruttori Edivi di Venezia che si schiera accanto alle forze dell'ordine contro l'illegalità nei cantieri. Sette persone, tra cui due minorenni, sono rimasti intossicati all'alba con cordia sagittaria per un probabile cortocircuito. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antena, tra i tanti i fatti in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring che torna anche questa sera a partire dalle 21 con Ferdinando Avarino. Sciopero il 17 contro la manovra, la manovra dell'esecutivo Meloni. Giusto? Se sì, il numero è quello in verde, quello solito a cui siete abituati a chiamare. Se no, il numero ovviamente in rosso scorrerà nel corso di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21 su Antenna 3. Mandiamo subito a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori per tutti gli aggiornamenti sul caso dei due fidanzati che non si trovano dispersi. Buonasera Cristian, buonasera ai nostri telespettatori. Anche noi stiamo continuando a monitorare la situazione. Sono ore di attesa per tutti, sia per la stampa ma soprattutto per i familiari di Giulia e Filippo. I familiari che oggi proprio si sono riuniti nella casa di Giulia a Vigonovo per lanciare un appello congiunto, un appello che chiede ai ragazzi di ritornare. Qualsiasi cosa sia successa l'affronteremo insieme, dicono e poi un appello anche ai telespettatori, a chi ci segue, chiunque veda qualcosa lo segnali al 112 oppure ai nostri numeri di riferimento. Ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente, e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto nera targata FA015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse. Qualsiasi cosa sia successa, noi lo aspettiamo, gli vogliamo bene, vogliamo bene lui e la Giulia e che ritornino. Vi prego, tornate. Siamo giù. Qualsiasi cosa sia successa, siamo qua. È un appello congiunto, disperato, quello dei genitori dei due 22 anni di cui non si hanno più notizie da sabato sera. Si sono ritrovati nella casa di Giulia, in via Aldomoro a Vigonovo, il papagino, insieme a Nicola ed Elisabetta, i genitori di Filippo, uniti nell'angoscia di queste estenuanti ore d'attesa, sussultando a ogni squillo del telefono, ma anche nella speranza che i loro figli rientrino a casa sani e salvi. Per questo hanno trovato la forza di lanciare un appello davanti alle telecamere, ai loro figli e a chiunque possa essere d'aiuto, fornendo quanti più dettagli possibile. Giulia è alto, 1,63 m, ha i capelli castani con frangetta, porto maglione azzurro, una gonna marrone corta a tubino, calze, scarpe a mocassino nere e un giubbotto capotto nero. Filippo è alto, 1,88 m, ha i capelli castano scuro. Un paio di jeans chiare con l'elastico alla casiglia, delle scarpe bianche con la panna dell'Adidas, un inserto dietro arancione e poi aveva un giubbino nero corto in vita di tessuto tecnico impermeabile e col cappuccio. E' un appello anche ai telespettatori che se vedono una grande Fiat Punto targata FA 015YE, che ha anche delle ammaccature nel cofano della macchina dovute alla grandine, di contattare le 112. Poi la mamma aggiunge. L'ultimo giorno che l'abbiamo visto era tranquillo. E tranquilla era anche Giulia, almeno fino alle 22.45 di sabato, quando si è scambiata alcuni messaggi Whatsapp con la sorella Elena, sulle scarpe da indossare probabilmente il giorno della sua imminente laurea. Quello che si è accaduto dopo, i carabinieri stanno cercando di ricostruirlo passo dopo passo. Dalle ore trascorse nel centro commerciale di Marghera, al testimone che dice di aver sentito una discussione nel parcheggio poco distante la casa di Giulia, verso le 23.15. Poi le chiazze di sangue nella zona industriale di Fossò, dove verso le 23.30 le telecamere hanno registrato il passaggio dell'auto. E ancora le altre zone oltre la provincia. Tra Veneto e Friuli, il Trebigiano, il Bellunese. E mentre continuano le ricerche a 360 gradi, anche nella zona del Cansiglio, proprio la scorsa notte, la targa dell'auto sarebbe stata letta dal rilevatore elettronico nell'Alto Bellunese, confermando che si stava dunque ancora muovendo. Poi nuove ricerche lungo la riviera del Brenta. Le ricerche dei vigili del fuoco si stanno concentrando anche lungo il naviglio tra Dolo e Stra, proprio nelle prime ore del pomeriggio. abbiamo visto l'elicottero sorvolare la zona. Ma nel corso della mattinata, su richiesta dei carabinieri, hanno effettuato verifiche anche lungo gli argini con l'utilizzo del gommone. Ricerche che però hanno dato esito negativo. Quindi le squadre sono rientrate. Avete sentito poco fa nel servizio, si parlava di un'eventuale lettura da parte del rilevatore elettronico della targa dell'auto nella zona dell'Alto Bellunese. Ebbene, questa notizia è stata smentita. Quindi non è così. Ecco, perché era stato utilizzato anche il condizionale. Proprio una notizia di poco fa. Ma dicevamo oggi una giornata di appelli. Appelli proprio a Giulia e Filippo. Perché ritornino a casa e poi soprattutto anche a qualcuno che possa incrociare l'auto o addirittura i ragazzi, informare immediatamente le forze dell'ordine o addirittura i familiari. Ma sentiamo anche l'appello della zia di Giulia. Lei ha fatto un appello nei confronti. Mi sento circondata. Sto andando a casa, sto andando dai miei genitori che sono molto anziani e hanno bisogno del nostro sostegno. Quindi grazie per quello che state facendo. E gli appelli li abbiamo già fatti. Continuate a riproporli. Ce li ripeta lei. Aspettiamo i ragazzi. Siamo molto fiduciosi nelle ricerche di tutte le istituzioni a questo punto. Chiediamo l'aiuto di tutti. Di tutti i cittadini che potessero in qualche modo vedere questi ragazzi. di non temere di fare alcuna segnalazione e quindi di aiutarci a trovarli. A Filippo e Giulia, se ci stanno ascoltando, se ci sentono, chiediamo di contattare i genitori di Filippo oppure mio cognato, noi ce li andiamo a prendere di non aver paura, che comunque insomma noi li stiamo aspettando e abbiamo tanta voglia di riabbracciarli. Qualsiasi cosa è successo, non è successo niente. Insomma, siamo pronti qui. Siamo pronti ad aiutarli. Grazie. Arrivederci. Grazie, Elena. Grazie mille. Tornate, siamo pronti ad aiutarvi. Questa è la frase che stiamo sentendo di più tra gli appelli di questi giorni. Ma ovviamente anche il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, è intervenuto sulla questione dicendo che siamo fiduciosi che tornino a casa. Sono due ragazzi dei nostri, davvero ragazzi che studiano, che hanno fatto percorsi di studi importanti e quindi sicuramente ci fa pensare che ciò che è avvenuto non fosse prevedibile. Questo da un lato un po' ci preoccupa, ma speriamo davvero di poter contare su dei ragazzi che davvero si siano imbattuti in qualcosa che avrà un lieto fine e che possa finire presto. Siamo fiduciosi e soprattutto impegnati in qualsiasi modo per dare un contributo che sia utile davvero e che non complichi al contrario il lavoro di queste ore che è tutt'altro che semplice. Un lavoro tutt'altro che semplice proprio così, un lavoro di ricerca a 360 gradi. Da Vigonovo però ci spostiamo a Torreglia, l'altra comunità in apprensione proprio per il ritorno di Giulia e Filippo. La nostra collega Valentina Visentin oggi sul posto ha intervistato l'ex allenatore di Filippo e anche un amico. Sentite in questo servizio che cosa ci hanno detto, quali sono le loro testimonianze mentre io qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Qualsiasi cosa sia successo che torni indietro, che noi li vogliamo bene, noi della squadra sicuramente e credo anche la famiglia e tutti gli altri. Mi scusi ma mi sto commodendo perché è come un figlio. Fa fatica a trattenere la commozione Gennaro Zecchino, dirigente della Libertas Volley, la squadra di pallavolo di Torreglia dove Filippo Turetta aveva militato fino a settembre del 2022. Anche lui, come tutte le persone che vogliono bene al 22enne, sta vivendo momenti di apprensione in questi giorni. Il suo messaggio a cuore aperto per Filippo, un ragazzo educato e rispettoso fuori e dentro il campo di volley. Non è mai stato assente così per caso. Se era assente era perché c'era qualche problema vero. Come Gennaro Zecchino, anche Luca, amico d'infanzia, spera in un ritorno a casa di Filippo con Giulia. Nel comportamento del giovane e con gli amici, niente lasciava trasparire alla volontà di un allontanamento. L'ho visto l'ultima volta, circa tre settimane fa, alla mia festa di laurea. Appunto era venuto anche lui e insomma mi è sembrato normale, come sempre, era sorridente, scherzoso. Filippo, appassionato di trekking, conosceva bene i Colli Ugani e qui che ieri lo hanno cercato i genitori e poi le Dolomiti. Non frequentava invece la zona del Cansiglio, dove oggi si sono concentrate le ricerche dopo gli alert delle targhe. La storia con Giulia, conosciuta all'università, era durata circa un anno. C'era rimasto parecchio male, si erano lasciati nel periodo di agosto e insomma sia io che dei nostri amici comunque avevamo cercato di consolarlo, di stargli vicino e sembrava un po' che avesse passato questo brutto periodo, che si fosse un po' ripreso. Ora Filippo stava studiando per gli ultimi tre esami del corso di ingegneria biomedica. Il rapporto con Giulia sembrava essere rimasto amichevole fino all'appuntamento di sabato sera e la scomparsa. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per parlare degli stati generali del moto ondoso che si sono svolti oggi. Questa riunione di oggi apre, continua, sottolinea un tema che per tutti, lo avete detto tutti in tutti gli interventi, è un tema rilevante. Cioè il moto ondoso non è un'invenzione di qualcuno ma è un dato oggettivo che va in qualche modo limitato. Questo penso che siamo d'accordo tutti, perché se su questo siamo d'accordo penso che abbiamo già fatto un grosso passaggio in avanti, perché nessuno ha mai negato e mai vuole negare questa cosa qua. Al polo nautico sportivo di Punta San Giuliano a Mestre il sindaco Luigi Brugnaro chiude gli stati generali della città sulla mobilità a cui ha il moto ondoso a Venezia. Un problema sul quale si sono confrontati politici, forze dell'ordine, enti, associazioni di categoria e sportive, attraverso una sessantina di interventi con proposte che vanno dall'introduzione di una specifica abilitazione alla guida delle barche, ad un ripensamento del sistema di gestione dei flussi, all'utilizzo di barche ibride ed elettriche. Il moto ondoso lo diciamo chiaramente per Venezia è un problema reale e in maniera reale vogliamo affrontarlo. Da una parte con la deterrenza e da un'altra parte con la premialità, perché cerchiamo di cambiare la mentalità alle persone, non si parla soltanto degli operatori ma anche di quelli che vivono nella città. Dobbiamo raccontare come a Venezia il tempo è qualcosa di particolare, la lentezza di Venezia diventerà il suo vantaggio e la sua specificità. Brugnaro ha anche ricordato la predisposizione del SISA, il sistema sanzionatorio. Attualmente ci sono 56 postazioni di rilevazione del traffico acqueo sui principali canali della città, ma per renderlo operativo è necessario che il governo proceda all'omologazione. Dobbiamo sapere che l'applicazione del rallentamento della velocità, che è quello che oggi possiamo fare subito e faremo subito, comporterà degli aumenti di costo per cui aumenteranno i prezzi delle materie probabilmente, perché portare la merce potrebbe costare di più. E sulla laguna c'è un alert specifico. Bisogna ricominciare il rialzo delle fondamenta di Venezia. È la proposta dei Verdi, visto che un continuo sollevamento del Mose avrebbe un impatto fortissimo sull'attività del porto. E poi bisogna anche tornare a preoccuparsi della laguna, perché i cambiamenti climatici rischiano di diventare una scusa se servono a nascondere gli effetti che gli interventi dell'ultimo secolo hanno provocato. La laguna centrale sta diventando sempre più un braccio di mare rispetto a quello che era tradizionalmente. Vuol dire perdere un ecosistema raro, unico praticamente. Per secoli la Serenissima ha preservato la fragilità del suo bacino non solo dall'ido a pellestrina con chilometri di opere di difesa dal mare, ma anche evitando nell'interramento con un'operazione ciclopica di deviazione delle foci di Sile, Brenta e Adige lontano dalla laguna. Poi, dalla metà del Novecento, le cose sono cominciate a cambiare. Una certa profondità di qualche decina di centimetri, una certa variegatezza del fondale, una certa ramificazione dei canali, dei ri, dei ghebi, una certa fauna e una certa flora è stata drasticamente modificata dall'ingressione marina. In origine dallo scavo del canale Malamocco-Marghera, il cosiddetto canale dei petroli, e poi gli aerei delle porta container che entrando, spostando grandi masse d'acqua, livellano il fondale, lo approfondiscono. Secondo alcuni, se non si farà un port offshore, il continuo aumento di stazza delle navi mercantili relegherà a Venezia un ruolo di secondo piano. Eppure, all'orizzonte ci sono solo nuovi scavi in laguna. Questa modificazione si può vedere, come dire, guardando le mappe fotografiche. La zona centrale della laguna è di colore blu scuro. E questo indica una profondità molto maggiore del resto, che è in azzurro, in verdolino, in verde laguna per l'appunto. Dovevamo parlarvi anche della dura presa di posizione dell'Associazione di Costruttori Edili di Venezia sulla illegalità nei cantieri. Lo faremo nelle prossime edizioni. Giusto il tempo per la cronaca. Questa è l'immagine che vi mostro in chiusura. Sette persone, tra cui due minorenni, sono rimasti intossicati all'alba. Concordia sagittaria per un probabile cortocircuito di un elettrodomestico che poi ha preso fuoco, tasforza di uomini e mezzi. La famiglia è stata trasferita in pronto soccorso. È tutto per questa edizione. C'è il meteo. Buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Non si prevedono grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. È ancora l'alta pressione a dominare sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 15 novembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con tantissime nuvole, anche con cielo coperto su molte zone. Nel pomeriggio, e lo vediamo dalla grafica, il sole avrà sempre più spazio per splendere in cielo. Le temperature saranno stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime sui 4-7 gradi. Massime invece comprese tra 14 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime infine sui 15-16 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave. Grazie a tutti.